trebimeteo.com consulta le previsioni sempre aggiornate su trebimeteo.com Previsioni del tempo per sabato 17 settembre. Alta pressione che continuerà a proteggere il sud-est con cieli in gran parte soleggiati. In Puglia bel tempo con cieli sereni per tutta la giornata, stesse condizioni in Basilicata eccetto il pomeriggio in montagna, dove lo sviluppo di annuvolamenti pomeridiani sulla dorsalia penninica potrà dar luogo a qualche isolato temporale su Potentino e area del Vulture. In Molise bel tempo con cieli sereni, soleggiato ma con nubi sparse, il pomeriggio in montagna, temperature senza variazioni di rilievo, venti deboli variabili a regime di brezza lungo le coste, mari quasi calmi.